Stiamo confrontando e analizzando la decisione del Presidente del Consiglio di mettersi e un confronto ovviamente interno che è cominciato già ieri e che continuerà nelle prossime ore. Tutti gli organi del Movimento 5 Stelle, dal Presidente, ovviamente dal Consiglio Nazionale, la Delegazione di Governo che adesso si è incontrata col Presidente, facciamo tutte le nostre valutazioni. C'è un campo di ipotesi di ritirare la Delegazione. Grazie, si è dimesso il Presidente del Consiglio, di fatto è il Governo dimissionare.